I carabinieri indagano sulla morte di un ragazzo sudamericano di 21 anni precipitato dalla terrazza del Pincio sopra piazza del Popolo a Roma dopo una lite. Il fatto è avvenuto intorno alle 2.30 del 26 luglio sul posto i carabinieri di San Lorenzo in Lucina, il nucleo investigativo della settima sezione di Vienselci, militari di piazza Venezia e il personale medico del 118 che ha portato il 21enne all'ospedale San Giovanni in condizioni critiche. Il giovane è morto poco dopo. Grazie a tutti.